Ciao a tutti ragazzi, oggi come prima cosa mi scuso per la voce più strana del solito e per i cali che ci saranno durante il video purtroppo l'influenza ha già colpito ma ci tenevo comunque a fare questo video siccome questa box che vi mostro oggi molto presto andrà via in partenza perché l'ho ceduta mi dispiace un po' averla ceduta, in verità io questa box la posseggo da un paio di mesi ho vinto la possibilità di acquistarla per una gran botta di fortuna però mi è sempre dispiaciuto utilizzarla perché è un pezzo talmente particolare e secondo me è un'opera d'arte e mi dispiaceva utilizzarla, di conseguenza l'ho tenuta nella sua scatola in questi due mesi la tiravo fuori ogni tanto per guardarla, per ammirarla ma niente di più, non ha al suo attivo nessuna attivazione scusate il gioco di parole stiamo parlando della Skull Custom Mod modello Heritage questa è la confezione in cui mi è arrivata una scatola in legno molto bella già lei la prima volta che l'ho visto ho pensato che il contenuto potesse essere solamente migliore già la scatola a me piace tantissimo andiamo ad aprirla togliamo questa parte di Pluriball e troviamo appunto questa scheda modello stabilizzato batch Heritage legno verde legno stabilizzato seriale 14 dietro rimane soltanto il logo di Skull Custom Mod e questa è la mod naturalmente parliamo di una box bottom feeder meccanica tutto legno e che legno al tatto al tatto è bellissima si sentono le venature soprattutto in questa parte qua in alto dove sembra essere quasi rovinata ma è una caratteristica di questo pezzo di legno utilizzato le incisioni sono stupende a parer mio spero si vedano bene tutta la mod nel suo complesso è molto particolare subito prima di iniziare questo video ho voluto togliermi la curiosità di pesarla e pesa solo 45 grammi mod completa di boccetta senza liquido e senza batteria ed atomizzatore lo sportello anche ha tutta questa lavorazione in rilievo secondo me molto bella due grandi magneti il foro per lo squonk secondo me è ben fatto la dimensione è giusta la forma è particolare il legno è stato lavorato bene in modo da non graffiare assolutamente e sia che voi squoncate in questo modo piuttosto che solo con la punta del dito squonca sempre bene c'è anche da dire che la boccetta in silicone è morbidissima all'interno la mod è molto semplice abbiamo una lamella in argento da 0,4 la tazza anch'essa mi sembra placata in argento abbiamo sotto questa parte della lamella la lamella viene via tranquillamente così ve la faccio vedere bene abbiamo questa parte di termorestringente che serve ad isolare lamella lamella ben fatta andiamo a risistemarla nella sua sede naturalmente viene tenuta in posizione da boccetta e batteria una volta inserite il contatto di piatto a me piace molto inserendo la giusta resistenza che può fare la batteria diventa ottima non è presente un blocco a tasto come si vede quindi nel caso di trasporto o togliete la batteria o come al solito inserite una sorta di cartoncino o di spessore tra la lamella mobile e la parte di lamella fissa in modo che non vadano a contatto involontariamente non c'è tanto da dire su questa mod io come detto all'inizio questo è un video dove vi mostro solo il prodotto ma non verrà assolutamente utilizzato in quanto non l'ho mai fatto e l'ho ceduta l'ho ceduta per no fire quindi mai attivata e voglio essere di parole e darla via così senza averla mai attivata ancora una breve panoramica da tutti i lati perché credo che sia la box più bella che io abbia mai visto e che io abbia mai avuto e voi direte perché non la usi non te la tieni allora perché quando un prodotto è fatto troppo bene ed è troppo bello come in questo caso per paura di consumarlo o di rovinarlo o peggio ancora di romperlo o di perderlo io preferisco non utilizzarlo e come anche altri prodotti li tengo semplicemente in esposizione la boccetta prima non l'abbiamo tolta non ho detto vi ho detto sì che è in silicone ma non vi ho detto il modello è una classica BFX col salvagoccia la conosciamo già tubicino molto lungo veramente veramente una mod particolare e secondo me una signora mod andiamo a ricomporla a posto la particolarità del tasto con il logo il teschio di Skull Custom bellissimo sulla tazza nulla da dire pin regolabile con un cacciavite a taglio direttamente da sopra e bo questa era la Heritage in legno stabilizzato di Skull Custom Mode io ringrazio tutti quanti come al solito in caso di domande o curiosità tranquillamente nei commenti o privatamente su Messenger spero che il video vi sia piaciuto ma più che piaciuto che vi sia stato utile per mostrare uno di quei prodotti che dai più non è conosciuto e che molto spesso vengono lasciati in secondo piano quando meriterebbero molto più spazio sia nel mondo delle mod i-end che nel mondo delle mod normalissime da tutti i giorni io con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao belli ciao